Siamo al Museo Monnalisa e questa sera assisteremo a un concerto di chitarra classica. Presente vicino a me il presidente dell'Associazione Amici della Musica, Pietro Cantisani. Buonasera Pietro, ci parli un po' di questa associazione che esiste nella nostra città da 40 anni. Allora, l'Associazione Amici della Musica del Lago Negrese è in attività da 40 anni. I fondatori sono stati il maestro Racioppi che è tuttora direttore artistico della stagione concertistica e l'architetto Antonio Brigante. L'associazione ha promosso, quindi a partire dal 1976, attività didattiche in primis, corsi di perfezionamento e poi in seguito attività concertistiche che sono culminate quindi nel festival della chitarra che ha rappresentato per l'Associazione e per Lago Negro una punta di diamante che ha contraddistinto l'Associazione e Lago Negro stesso nell'ambito quantomeno chitarristico a livello internazionale. L'Assegnata è stato un passaggio importante soprattutto in virtù del concorso per interpretazione di musica per chitarra del XX secolo che è stato per lunghi anni un osso duro per molti chitarristi che venivano qui a Lago Negro veramente in pochissimi talvolta per la difficoltà del repertorio scelto ma che ha, ripeto, assegnato quindi proprio per questo un passaggio importante per chi affrontava lo studio della chitarra. Diciamo il festival si svolge non solo nella città di Lago Negro, va detto, ma ha detto prima nel Lago Negres ci sono state, diciamo, delle giornate importanti che ha Vigianello, Latronico, Senese, Castelluccio diciamo ha toccato un pochino tutta quanta la Basilicata e le nostre eccellenze hanno avuto la fortuna di andare all'estero oggi come maestri. Può dirci qualche nome? Abbiamo sentito qualche tempo fa alcuni giovani che sono esibiti proprio qui in questo terreno. Luigi Attademo è uno dei chitarristi più in voga nel panorama internazionale per chitarra e allievo del maestro Racioppi e anche io sono un allievo del maestro Racioppi come il direttore artistico Francesco Langone siamo frutto di questa scuola di chitarra che poi anche grazie al maestro Angelo Gilardino che è stato qui con noi per circa vent'anni è stato l'infa vitale proprio per noi per chiunque poi si volesse affacciare al mondo della chitarra. Professore, oggi gli iscritti, vista la natalità insomma in decremento i ragazzini si iscrivono, sono costanti, continuano l'attività perché è abbastanza impegnativa? Sì, è impegnativa oggi come era impegnativa ieri purtroppo la parte relativa alla didattica è calata notevolmente, sensibilmente anche se l'attenzione poi c'è sempre il nostro pubblico è un pubblico di nicchia ovviamente però diciamo che ci contiamo sempre le giovani leve oggi fanno un po' fatica perché ci sono delle problematiche un po' più ampie alla base vuoi la ricostituzione dei vecchi conservatori che hanno rimodellato il corso di studi e quindi ancora non si sa bene cosa diventeranno allora questa incertezza anche nelle possibilità offerte dalla disciplina sia lavorative che a livello concertistico diventano ovviamente uno scoglio anche per i ragazzi che cominciano a, che si addentrano in questo Ci vuole tanta passione e tanta costanza il prossimo incontro, quindi il festival in quante tappe insomma quante tappe avete definito per quest'anno? Il festival che storicamente ha mosso i suoi passi sempre nell'ambito dell'agosto Lago Negrese quindi la data storica è sempre stata lo start è stato al 20 di agosto quest'anno purtroppo è stata slittata a settembre per cause riguardanti l'attribuzione del FUS del quale noi ovviamente ci nutriamo per la realizzazione dei concerti e quindi abbiamo deciso comodamente di cominciare a settembre quindi con il pubblico effettivamente a Lago Negrese non un pubblico turistico ma c'è da dire, c'è da segnalare anche che alcuni degli spettatori vengono da paesi limitrofi quindi si spostano quindi questo fa piacere a noi che organizziamo e dovrebbe far piacere anche alla popolazione di Lago Negro che Lago Negro diventa un centro ritorna a essere un centro di importanza internazionale per quanto riguarda attività culturali di questo genere certo, grazie e buona serata grazie a lei grazie a lei grazie a lei Grazie.